Esiste una polizza per la tua abitazione, proprio come l'hai pensata tu. Difesa Più Casa One, creata per tutelare ogni tua esigenza di sicurezza. Grazie a 5 garanzie integrabili, incendio e altri danni materiali, furto e rapida, responsabilità civile, tutela legale e assistenza. Una copertura completa, a misura di ciò che hai di più caro. La tua famiglia e la tua casa. Difesa Più Casa One, con un agente speciale Milano Assicurazioni sempre al tuo fianco. La serenità di casa è garantita. Grazie a tutti.